Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo alla chiesa di San Nicolò a Cesena di Razzano. Abbiamo un concerto di quattro campane e adesso ascolteremo suonare per il di San Nove Punto. Di fronte a un po' lo faccio vedere, questo è il campanone, questa è la mezzana, la suonata mezzana, grazie ad essere la piccola cordisella. Adesso ascolteremo il battiore sul campanone, poi la melodia è la mia mia di Lourdes, quindi a presto da Edoando Campanello 2008. E buon ascolto a tutti, ciao! Uno 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 Uno